Pedinata, accerchiata e rapinata, momenti di paura vissuti nella notte da una 51enne filippina che è stata strattonata, buttata a terra e derubata da tre sconosciuti che fortunatamente poco dopo l'aggressione sono stati arrestati da una volante della polizia. È accaduto alle 2.30 di notte in corso del popolo a Padova. La donna dal centro città stava andando verso la stazione per tornare a casa dopo il turno di lavoro. Durante il tragitto a piedi è notato tre uomini che la seguivano da punti diversi fino a quando vicino ad un cantiere l'hanno accerchiata, aggredita alle spalle e buttata a terra e derubata dalla borsa e del cellulare. Le urla disperate della 51enne sono state udite dai passanti che hanno allertato il 113. I rapinatori in fuga verso via Trieste sono stati individuati poco dopo dai poliziotti grazie alla descrizione fornita dalla vittima. Dopo un breve inseguimento i tre sono stati bloccati e arrestati. Si tratta di un 42enne italiano su cui pendeva il divieto di ritorno a Padova ai due trent'anni marocchini senza fissa di moria e con precedenti i poliziotti hanno recuperato l'area furtiva.